Ciao a tutti e benvenuti su Notebook Italia, io sono Nicola Vaglieri e prima di partire con la recensione vi consiglio sempre di seguirci sui nostri canali social e sul blog notebookitalia.it Oggi andremo a vedere il modello base della serie S di Samsung e sto parlando di S21 è il più piccolino della famiglia, rispetto agli altri non ci sono così tante differenze almeno per quanto riguarda le prestazioni, prestazioni assolutamente identiche l'unica cosa che cambia è che questo qui è veramente compatto e farà felici molti molti utenti me compreso perché dimensioni compatte sapete bene che nel 2021 è difficile trovare telefoni così compatti che più o meno si utilizzano con una mano partendo dall'unboxing insomma diciamo confessione c'è poco da dire perché al suo interno anche qui Samsung non mette più il cariche batterie quindi al suo interno c'è solamente il cavo Type-C da entrambi le estremità e la graffettina per il carrellino SIM però devo dire che la confezione è così ristretta non mi dispiace insomma esteticamente parlando per quanto riguarda l'hardware troviamo il meglio in assoluto disponibile in questo momento parliamo della CPU proprietaria di Samsung Exynos 2100 5G opera una frequenza massima di 2,9 GHz a 5 nanometri poi ci sono 8 GB di RAM LPDDR5 e la memoria da 128 GB UFS 3.1 disponibile anche il taglio da 256 GB purtroppo memoria non espandibile perché qui hanno tolto la possibilità di inserirci una micro SD ha la connettività Wi-Fi 6E direi l'ultima tecnologia disponibile al momento velocità direi assolutamente al top però ho notato che la banda 5 GHz ha un raggio d'azione leggermente inferiore rispetto agli standard poi c'è il Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti, GPS e supporta il 5G su entrambi le SIM supporta anche la e-SIM quindi la SIM virtuale come ricezione dati direi che è molto buona l'antenna l'ho trovata molto molto buona anche nella mia casa bunker per quanto riguarda il design design questa volta ha voluto risparmiare un pochino sulla serie S21 insomma sulla base, su proprio questo modello perché sul retro troviamo questa back cover che è in plastica quindi non è il classico vetro che vediamo anche su gli altri componenti della famiglia quindi S21 Plus e S21 Ultra che loro sono dotati di back cover in vetro però posso dire che almeno la plastica non trattiene neanche più di tanto le impronte quindi potrebbe essere anche un pregio ovviamente il frame è in metallo e se guardate questo design, il design delle fotocamere direi che piace piace tantissimo almeno a me piace poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti vedete che l'alloggiamento delle fotocamere si fonde proprio con la scocca laterale e questo qui è proprio il marchio di riconoscimento della serie S di Samsung di questo 2021 le colorazioni disponibili sono 4 questo sample è nella colorazione viola poi c'è il bianco, c'è il nero e c'è anche il rosa sicuramente per una ragazza la colorazione rosa è il top e visto che dimensioni così compatte e un peso di 169 grammi sicuramente questa serie S attirerà molto un pubblico femminile la serie base di Samsung non manca lo sblocco con il volto e c'è anche lo sblocco sotto al display direi sblocco sotto al display non così impeccabile sinceramente pensavo meglio molte volte capita di ripigliare il dito due volte sul display per sbloccarlo comunque funziona non vi preoccupate se avete un pelo il dito sudato comunque nell'utilizzo quotidiano non è così impeccabile sulla parte destra troviamo il tasto di sblocco controllo del volume sopra i microfoni secondari e sotto troviamo il carrellino sim che alloggia due sim type c e speaker speaker che in accoppiata con la capsula auricolare qui sopra creerà la stereofonia quindi speaker stereo quest'anno niente smussatura ai lati del display troviamo un display flat e con la fotocamera centrale classica con il forellino già preapplicata troviamo la pellicola pellicola direi abbastanza economica perché si graffia molto facilmente visto che la serie S di Samsung potevano almeno spendere qualcosina in più per quanto riguarda la pellicola invece il display assolutamente non si discute ha una grandezza di 6,2 pollici full hd plus è ovviamente un amoled e 421 ppi non troviamo le classiche risoluzioni 4k quest'anno si è fatto un passo indietro almeno per quanto riguarda la risoluzione però posso assicurarvi che non cambia assolutamente nulla confrontando il display con l'S20 della precedente edizione quest'anno hanno puntato tantissimo sul refresh rate che arriva ad un massimo di 120 Hz ha un refresh rate variabile quindi passa dai 48 ai 120 Hz sempre in base al contenuto inutile dirvi i colori Samsung sono a dir poco fantastici e potete poi dalle impostazioni scegliere voi se volete un colore più naturale un colore un po' più spinto direi che quelli Samsung predefiniti sono molto piacevoli non è presente nessun led di notifica però c'è l'always on display che è personalizzabile in ogni angolo quindi direi led di notifica per questa volta si può fare anche senza pienamente compatibile con tutti i servizi di streaming presente l'hdr 10 plus e ha una luminosità a dir poco fantastica arriva ad un massimo di 1300 nits quindi fuori all'esterno si vede senza alcun problema al suo interno troviamo la One UI 3.1 basata su Android 11 costantemente aggiornata con l'ultima pass di sicurezza di marzo ogni anno la trovo sempre più completa sempre più personalizzabile immancabile la barra laterale con le varie applicazioni a portata di mano e poi c'è sempre Samsung DeX però questa volta con l'ultimo aggiornamento è possibile collegare direttamente un monitor o una tv anche in modalità wireless quindi senza collegare obbligatoriamente un cavo continuo a non piacermi la tastiera di Samsung tastiera di Samsung che non la trovo sempre così reattiva se fosse il mio telefono principale assolutamente l'andrei a cambiare con quella di Google ho trovato anche il launcher perfezionato anch'esso personalizzabile e dimenticatevi assolutamente la One UI la goza di Samsung perché è sì pesante però con i componenti hardware di cui è dotato devo dire che assolutamente l'alleggerisce proprio detta come va detta e va molto molto bene fluido in qualsiasi transazione in qualsiasi situazione non l'ho mai trovato in difficoltà devo dire che questo Exynos va molto bene mi piacerebbe confrontarlo con lo Snapdragon 888 perché le edizioni extra europee sono dotate di un'altra CPU mi piacerebbe proprio confrontarlo per vedere se le prestazioni sono identiche però almeno a mio parere prestazioni maggiori di queste almeno per ora non ci sono sicuramente questa CPU scalda un pelo di più rispetto alle altre non tanto nell'utilizzo social però anche nella visione semplicissima di un video YouTube si scalda immediatamente ecco non fraintendetemi non è assolutamente come S20 S20 diventava rovente dopo pochi minuti di utilizzo scalda però non intacca le prestazioni in nessun modo molto probabilmente anche avere uno schermo così tanto luminoso così tanto performante fa scaldare un po' il tutto inutile anche soffermarmi sul gaming qualsiasi titolo 2021 non lo impensierisce invece per le fotocamere Samsung è sempre stato al passo con i tempi e questo S21 con le sue tre fotocamere è sicuramente una buona base per effettuare ottimi scatti in qualsiasi condizione anche se c'è qualche imperfezione noi partiamo dal sensore principale che è quello centrale da 12 megapixel che è stabilizzato otticamente e genera ottimi scatti in qualsiasi condizione di luce con una predominanza della colorazione blu in diurna e infatti se vedete tutte le foto scattate di giorno il cielo risulta sempre più acceso rispetto alla realtà però non mi dispiace assolutamente scatti direi definiti ottimo lavoro in controluce soprattutto la gestione software in notturna è spettacolare e regala delle fotografie da primato senza perdere troppi dettagli avere scatti così al buio con uno smartphone non è assolutamente male poi c'è la grandangolare anch'essa da 12 megapixel è a un angolo di apertura di 120 gradi non ricrea particolari stondature però gli scatti non sono dettagliatissimi comunque tutto sommato crea buoni risultati in diurna in notturna i dettagli si perdono inesorabilmente e in condizioni di scarsa luminosità direi che la qualità non è per niente buona poi c'è il teleobiettivo da 64 megapixel in realtà ha un'ottica con uno zoom di 1,1x e arriva a 3x tramite un ritaglio digitale quindi via software ed effetto tutto questo perché i megapixel a disposizione sono molti devo dire che non mi ha più di tanto entusiasmato la qualità è sicuramente ottima per scatti da pubblicare sui vari social ma se andrete a ricontrollare semplicemente questi scatti al computer vedrete che i dettagli non sono così tanto presenti direi che fa un ottimo lavoro a livello software però è sicuramente meglio avere un sensore con già uno zoom ottico almeno di 3x arriva anche a uno zoom di 30x se vedete anche l'inquadratura è stabilizzata quando effettuate uno zoom del genere però la qualità è di poco pessima quindi oltre altre per secondo me con questo obiettivo è meglio non andare invece fotocamera frontale fotocamera per i selfie da 10 megapixel direi che si comporta molto bene è la fotocamera che mi è piaciuta più di tutti almeno per quanto riguarda l'anteriore selfie ottimi controluce gestisce molto bene il controluce e anche nell'effetto bouquet direi che si comporta bene i video arrivano addirittura all'8k 24 frame al secondo però io vi consiglio di non superare mai il 4k a 60 frame al secondo ci sono tantissime impostazioni ci sono anche tutti i vari effetti divertenti che potrete sbizzarrirvi e soprattutto c'è questa novità che è il video da regista quindi andranno in contemporanea tutte le fotocamere vedrete in anteprima le tre fotocamere posteriori e potete mettervi proprio con il vostro faccione dove si vuole nel video oppure effettuare proprio come vi dicevo queste riprese da regista buona la qualità video però come stabilizzazione sinceramente mi aspettavo qualcosa di più perché c'è anche la super stabilizzazione però da un top di gamma se si abilita la super stabilizzazione non si può passare al full hd potevano almeno mantenere il 4k a 30 frame invece stabilizzazione massima passa al full hd invece la stabilizzazione standard ogni tanto non l'ho trovata così precisissima delle volte sembra quasi come se si disattivasse per qualche secondo e poi si riattiva non so forse una non perfetta gestione software per quanto riguarda la stabilizzazione però posso dirvi che i video sono buoni e hanno anche degli ottimi dettagli infine ci sono anche gli slow motion 1080p 240 fps e poi si passa 720p a 960 fps l'audio by AKG dovrebbe essere poi sempre proprietaria di Samsung supporta pienamente il Dolby Surround e come vi dicevo all'inizio speaker qui in fondo che lavora in contemporanea con la capsula auricolare direi suono molto molto immersivo qualità molto top qualità piacevole quando c'è un dispositivo con lo speaker stereo è piacevole ascoltarlo non ci sono proprio quei bassi così pronunciati sono praticamente inesistenti però per il gaming la visione di contenuti su youtube o qualsiasi video in streaming la qualità è molto buona per quanto riguarda la capsula auricolare si sente molto bene è in copertura di 4G quindi quando si ha una qualità del segnale ottima si sente molto molto bene il nostro interlocutore e sembrerà quasi di avercelo qui al nostro fianco ha una qualità strana che sinceramente non avevo ancora provato e si sente molto aperto ecco non riesco a spiegarmi proprio bene 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 però vi posso assicurare che in chiamata si sente molto bene come anche i microfoni sono ottimi e vi farete sentire bene invece la vibrazione pensavo meglio non così netta diamoci un voto 8 su 10 per quanto riguarda la batteria qui c'è la nota dolente batterie che non mi ha proprio così soddisfatto secondo me è la cosa peggiore su questo smartphone perché è dotata di soli soli tra virgolette 4000 mAh ormai nel 2021 la base è 5000 mAh tranquilli e vi porta a fine giornata senza alcun problema sempre se non andate a stressare nel senso lo utilizzate tutta la giornata dopo cena volete fare una giocatina avete un 30% di batteria ecco la giocatina è proprio quella ammazzata finale che ve lo scaricherà prima di finire la giornata e vi toccherà collegarlo alla corrente si riescono a fare più o meno quei 5-6 ore diciamo 6 ore di schermo si riesce a coprire un giorno e mezzo se fate un utilizzo standard però direi che questo qui che è il modello base ha la batteria più piccolina essendo anche molto più compatto non ha così tanta durata però tranquilli fine giornata ci arriva senza problemi per quanto riguarda la ricarica sempre se siete in possesso di un caricabatterie da 25 watt vi consentirà di ricaricarlo in meno di un'ora e mezza e dalle impostazioni è possibile settare la ricarica lenta anche per salvaguardare la batteria nel tempo supporta la ricarica wireless fino a 15 watt e c'è anche la ricarica wireless inversa quindi potete appoggiare direttamente un dispositivo qui sulla scocca posteriore e lo ricaricherà a 4,5 watt quindi ricarica lenta direi che potrebbe essere utile come ricarica d'emergenza se avete le cuffie scariche insomma quei dispositivi che hanno una batteria piccolina perché se poi andate a ricaricare altri dispositivi già che c'è poche batterie per lui se andate a ricaricare altri rimanete sicuramente a secco uno smartphone che piace direi uno o tre più venduti e queste dimensioni così compatte e con una maneggevolezza così attira tantissimo l'attenzione ricapitolando le cose che non mi sono piaciute perché è veramente un telefono bomba però in primis troviamo una stabilizzazione non così ottimale anzi direi stabilizzazione alto allenante uno grandangolare migliorabile e back cover in plastica e poi stavo anche dimenticando c'è la pellicola che dopo due giorni di utilizzo si rovina subito insomma diciamo che con un uso standard si rovina immediatamente e vi toccherà andarla a sostituire dico anzi sottolineo questi difetti perché la serie S di Samsung la vedo sempre al top in assoluto e devono lavorare tanto sui dettagli e non ci devono essere queste piccolezze qua però farei un passettino indietro per quanto riguarda la back cover perché dopo un po' d'utilizzo la back cover così in plastica non si sporca così facilmente poi se vi capita di trovarvi il telefono a terra sicuramente non si frantuma in mille pezzi come se avesse una back cover in vetro per il prezzo si parte da 879 euro prezzo ufficiale per la versione da 128 gigabyte e 929 euro per la versione da 256 giga se cercate un po' online ormai da due mesi che è uscito questo smartphone si riescono a trovare un po' di offerte perché come ben sapete Samsung si svaluta un pochino dopo un paio di mesi quindi sono riuscito a trovarlo sui 650-700 euro direi che se cercate se siete degli smanettoni controllate bene online perché assolutamente ad un prezzo inferiore di 200 euro rispetto al prezzo ufficiale direi che assolutamente ha senso perché è un telefono che va bene in assoluto è il migliore in assoluto e nel complesso posso dirvi che ve lo consiglio a parte quei difettucci che vi ho elencato che poi non sono quei difettucci così evidenti però mi piaceva sottolinearli perché vi ripeto la serie S la vedo sempre al top in assoluto per qualsiasi altra informazione trovate il link qua sotto in descrizione che vi riporta su Notebook Italia per l'articolo completo e per qualsiasi altra domanda scrivete qua sotto nei commenti un salutone e alla prossima su Notebook Italia